Oggi qui a Larum viene presentata la nuova app di Coldiretti per quanto riguarda lo sviluppo rurale. Vogliamo spiegare in cosa consiste questa nuova app? L'app Terra Innova di Coldiretti sullo sviluppo rurale è un'app che consente ai giovani agricoltori e a tutti gli agricoltori in generale di avere informazioni sempre a portata di mano. In particolare il punto di forza è la possibilità di avere aggiornamenti immediati sull'apertura dei bandi dello sviluppo rurale, ma anche avere informazioni immediate sui prezzi dei prodotti di proprio interesse e la possibilità di simulare la propria idea imprenditoriale attraverso la sezione del business plan. In particolare per quanto riguarda i bandi dello sviluppo rurale e i prezzi è previsto un meccanismo di notifiche che avverte immediatamente l'utente dell'apertura o dell'aggiornamento dei prezzi dei propri prodotti. Inoltre ci sono altre sezioni, come per esempio le news per le notizie del settore agricolo ma anche la sezione eventi che consente di essere aggiornati sugli eventi della propria regione. Quindi un'app che consente un aggiornamento continuo e informazioni sempre a portata di mano. E oggi per presentare questa app avete invitato i ragazzi delle scuole? Anche sì, anche i ragazzi delle scuole perché è uno strumento importante che gli consente di entrare in contatto con il settore agricolo e con le opportunità che da questo sono offerte.